Al contrario delle aspettative, abbiamo trovato tantissima gente, rispetto a quelle che erano le edizioni precedenti ho notato un aumento non solo di persone, nonostante il trend non troppo positivo del mercato del latte e anche degli espositori, ho notato rispetto agli anni passati un impegno probabilmente da parte degli organizzatori, in particolare attenzione anche alle esigenze dell'espositore, possiamo dirci contenti e crediamo che ci sia stato un riscontro particolarmente positivo. Abbiamo avuto contatti dall'America, dalla Francia e dalla Germania, principalmente abbiamo notato una forte presenza italiana che obiettivamente non ci aspettavamo visto l'andamento del mercato del latte.